Ci sono dei professionisti che suggeriscono di fare operazioni finanziarie con i soldi della banca, cosa ne pensi? Hai qualche esempio da mostrarci? Tutti i giorni, nel senso che è una logica vecchia, cioè è la logica con la quale si finanziavano per esempio le operazioni immobiliari fino a qualche anno fa. Tu andavi da una banca, ti facevi dare un capitale, facevi con quel capitale un'operazione immobiliare, vendevi l'operazione immobiliare e dopodiché rimborsavi il capitale della banca e guadagnavi finanziariamente sull'operazione, moltiplicavi questa cosa 5, 6, 10 volte all'anno e diventavi ricco. Modello che andava benissimo fino a qualche anno fa, peccato che il mercato del credito è cambiato e le banche non finanziano più queste cose. Se uno ha quella cosa come mission di vita viene visto come un bersaglio grande così non appena entra nella porta girevole di una banca. Grazie a tutti. Grazie a tutti.